Le premiate di questa edizione sono per quanto riguarda il premio diritti umani e civili Jasvinder Sanghera, britannica ma di origine indiana, che si è battuta e si sta battendo tuttora grazie alla sua fondazione Karma Nirvana per combattere i matrimoni forzati. Poi abbiamo Laura Roveri per quanto riguarda il premio Coraggio, due anni fa è stata accoltellata dall'ex fidanzato Salvata per Miracolo, oggi è portavoce attraverso la sua testimonianza nelle scuole per sensibilizzare le nuove generazioni a denunciare questo fenomeno ogni qual volta si possa presentare. Il premio per l'informazione è la giornalista Mirta Merlino, conduttrice del talk show sulla 2007, l'area che tira, ma anche scrittrice del saggio Madri, perché saranno loro a cambiare il mondo. Il premio Arte e Cultura per il Sociale, l'artista norvegese Lise Bjorn Lindert, che attraverso la sua opera Desconossuida tende a sensibilizzare attraverso dei laboratori un femminicidio di massa che sta succedendo e che è successo nella città più pericolosa del Messico, a Saudade do Messico. Il premio speciale Action Aid, il premio va a Emanuela Zuccalà e Simona Ghizzoni per il progetto ANCAT, che è un progetto di Action Aid in tre parti dell'Africa, in Kenya, Somalia e Etiopia, per sensibilizzare le donne a non sottoporsi più alla infiburazione. Nel premio Prevenzione Sociale abbiamo Vittoria Doretti, medico della ASL 9 di Grosseto, che è l'idiatrice, quindi con lei che ha portato avanti il progetto del Codice Rosa, un progetto che è stato esportato in tutta Italia e che è diventato simbolo, sinonimo di tutela per le donne. Per il premio Imprenditoria Solidarietà per il Sociale Regina Schrecker, attualmente una delle stiliste più prestigiose e più pregiate nel mondo della moda. Qualche anno fa ha realizzato insieme a personaggi importanti dello spettacolo, della moda e della scienza un calendario per la sensibilizzazione di una malattia rara conosciuta come sindrome dei bambini a farfalla. Premio Cultura per il Sociale Dacia Maraini, nota scrittrice, drammaturga e regista. Per il premio Giornalismo ci sarà Lucia Goracci, lei essendo inviata di guerra di Rai News 24, in questi giorni la vediamo impegnata nel fronte dell'Iraq e della Siria, quindi noi ci auguriamo che la sua conferma possa essere di nuovo confermata. Sì, devo dire che stamattina non me l'aspettavo, ma nel pubblicare questi nomi, beh io con Chiari a ci siamo un po' emozionati perché abbiamo rivissuto le loro storie che sono così forti, così profonde, così interessanti per cui ragazzi, donne, preparati di tutti quanti perché sarà una serata semplicemente unica, emozionante, dove potremmo condividere tutti quanti un unico linguaggio.